Siete passati da un Madison Square Garden in delirio alla State Farm Arena. Quanto conta il fattore campo ora che il pubblico è tornato? Devo rispondere in italiano o in inglese? In italiano sarebbe meglio, se puoi, per il Corriere della Sera. Ok, perfetto. Penso che il fattore campo possa essere fondamentale. E' chiaro che nei play-off, soprattutto quando giochi contro New York, una piazza così, giocare al Madison non è mai facile. Quindi è una bella sfida. Sicuramente queste due partite in casa davanti al nostro pubblico, poterle vincere così, penso sia stato bello per noi e anche per i tifosi. Puoi parlare della tua difesa stasera e della prestazione tua e della squadra? Cosa c'è stato un declic, qualcosa che sta andando meglio nelle ultime due partite? Penso che la difesa la stiamo giocando bene. Il piano lo stiamo eseguendo per quasi tutti i 48 minuti ed è quello che ci fa vincere le partite. Offensivamente abbiamo tante letture, tante possibilità di mettere in ripo tanti giocatori. Però, ripeto, difensivamente, secondo me, stiamo facendo tutti un buon lavoro, non solo in uno contro uno, soprattutto contro i loro realizzatori, ma anche di squadra. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.